Ed eccoci alla seconda parte di Formel Salus, abbiamo fatto un cambio di poltrona, infatti siamo con il dottor Antonino Cartabellotta, benvenuto alla nostra diretta di Formel Salus e naturalmente nella seconda parte poniamo un accento sulle basi costituzionali che dovrebbero garantire universalità ed equità di accesso a tutte le persone, quindi salute. E parliamo anche di questa controriforma del titolo quinto naturalmente attuata da Renzi. Allora, partiamo intanto con questo concetto, universalità ed equità di accesso a tutte le persone. Oggi ci sono dei dati che smentiscono questo articolo 32? Sostanzialmente sì, perché l'articolo 32 lo ribadisco a tutti i telespettatori, cittadini del Paese Italia, a tutela la salute dell'individuo che poi attraverso l'organizzazione del servizio sanitario nazionale in maniera equa, in maniera universale, in maniera solidaristica, dovrebbe garantire l'accesso alle cure a tutti i cittadini. Quello che è successo ed è documentato da diverse valutazioni è che in realtà da nord a sud, ma anche all'interno della stessa regione, ci sono ampie livelli di diseguaglianza. Questi sono particolarmente evidenti tra le regioni del nord e le regioni del sud, ma di fatto sono identificabili a tutti i livelli, tanto che oggi si dice che l'accesso alle cure di un cittadino italiano dipende dal proprio cap di residenza in maniera molto così provocatoria. Certo, infatti poi ci sono anche degli spostamenti, delle migrazioni da una regione piuttosto che dall'altra, perché comunque questo ha creato sicuramente delle disuguaglianze regionali sul benessere del cittadino, ma questo in termini di salute proprio, finale, sul cittadino quanto ha inciso? Ha inciso molto, perché ad esempio i tassi di mortalità infantile neonatale a seguito delle procedure legate alla nascita del bambino sono molto diverse tra nord e sud, agli estremi ci stanno il Veneto e la Sicilia. L'erogazione di una serie di procedure di tipo terapeutico, mi viene in mente la frattura di femore nel soggetto anziano che dovrebbe essere operato entro 48 ore, si va da percentuali elevatissime che raggiungono quasi il 100% in alcune strutture del nord, a percentuali bassissime, dello 0,50% in alcune strutture del sud. Ecco, in tutto questo la riorganizzazione dei servizi dovrebbe evitare che un paziente venga solo perché c'è l'ospedaletto sotto casa, sottoposto a procedure interventistiche particolarmente complesse e rischiose, ma è importante che le regioni centralizzino una serie di procedure particolarmente complesse proprio per evitare dei rischi al paziente. Quindi questa frammentazione comunque lei la vede come un qualche cosa di negativo per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale? Assolutamente sì, perché di fatto nel 2001 cos'è successo? Quando lo Stato ha affidato alle regioni la pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari è successo un po' quello che è diventato un po' il mantra oggi del sistema sanitario, cioè che la buona politica ha fatto la buona sanità e la cattiva politica ha fatto la cattiva sanità. Sembra quasi un paradosso, abbiamo modificato un po' il proverbio che dice chi più spende meglio spende, mentre in sanità è un po' al contrario, cioè le regioni che hanno speso di più sono quelle che hanno erogato i peggiori livelli di servizi, in altre parole ed è un controsenso perché è chiaro che se uno vuole raggiungere una qualità maggiore dei servizi si giustifica dicendo che ha speso di più, mentre di fatto le valutazioni del Ministero sull'erogazione di quelli che si chiamano livelli essenziali di assistenza, cioè quelli che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini, fanno vedere che c'è una relazione diretta tra la peggiore qualità dei servizi e il distesto finanziario. Quindi ancora una volta l'autonomia ha generato delle difformità, delle disuguaglianze per i cittadini che peraltro pagano le imposte in tutta Italia con le stesse modalità, con una situazione anacronistica che poi si ribalta nelle regioni in deficit perché le regioni per recuperare questi debiti aumentano l'addizionale AIPF e quindi le imposte ai cittadini. Però vediamo, questa diciamo riforma, anzi controriforma del titolo quinto attuata da Renzi ha migliorato qualche cosa in verità? Ma adesso è troppo presto per vederne gli effetti perché in realtà quello che ha fatto la controriforma è eliminare quella che si chiamava la legislazione concorrente, cioè a seguito della prima riforma del titolo quinto... Ecco magari spieghiamo entrambe le riforme in modo che anche i nostri ascoltatori possano capire meglio. Nella riforma del novembre del 2001 per la sanità la cosa più importante è stata che prima c'era una sanità centralista dove la pianificazione dell'organizzazione dipendeva dallo Stato, prevalentemente dal Ministero, con la riforma del novembre del 2001 l'organizzazione è stata affidata interamente alle regioni. Però in questo processo di decentralizzazione dei poteri nell'organizzazione dei servizi sanitari sono rimaste una serie di leggi sulle quali hanno legiferato nel corso di questi anni sia lo Stato sia le regioni e quindi si è creata una sorta di conflitto istituzionale. Adesso che cosa è successo con la contro riforma? Di fatto la pianificazione dell'organizzazione rimane alle regioni, però viene eliminata la legislazione concorrente. Allo Stato viene mantenuta quella che è relativa alla tutela della salute pubblica, mentre alle regioni quella sulla pianificazione dell'erogazione dei servizi. È chiaro che, ribadisco, è ancora presto per sapere quanto questo ridurrà quel contenzioso anche tra legislazione statale e legislazione regionale. Dal punto di vista organizzativo presumo che non debba cambiare nulla, perché di fatto le regioni che hanno erogato una buona sanità continueranno a farla e quelle che invece hanno erogato una cattiva sanità, se non ci sono degli interventi di altra natura è molto difficile che le cose possano cambiare. E con noi all'interno del nostro progetto Salviamo il nostro sistema sanitario nazionale avevamo richiesto la modifica, la contro riforma del titolo quinto, eliminando la legislazione concorrente, però riteniamo che sia necessaria una maggiore capacità di indirizzo dello Stato sulle regioni. Le regioni devono avere delle indicazioni chiare, non solo sui lea da erogare, non solo su quelli che vanno monitorati, ma servono anche delle linee guida nazionali per evitare che ogni regione faccia le proprie, ma soprattutto serve quello che si chiama un sistema di valutazione delle performance sanitarie che sia unico per tutto il territorio nazionale. Mentre adesso stiamo vedendo che le regioni, seppur aggregandosi tra loro, stanno creando dei sistemi diversi, quindi quando il parametro di misurazione non è univoco capite bene che è molto difficile spiegare ai cittadini italiani che la sanità viene erogata alla stessa maniera in tutto il sistema sanitario nazionale. È certo che in effetti in questo modo ognuno le risorse le gestisce come meglio crede o perlomeno com'era, dovrebbe esserci quindi più centralità in questo senso, più indicazioni da parte dello Stato in modo che comunque ci sia un'efficacia in termini di regione sul sistema sanitario nazionale. Questa controriforma può comunque modificare una ridistribuzione di quello che possono essere le cose date comunque alle diverse regioni? Se parliamo di risorse economiche no, perché sostanzialmente quello che si chiama Fondo Sanitario Nazionale che ammonta per il 2014 circa 111 miliardi di euro viene distribuito alle singole regioni in funzione della popolazione residente pesata per età. Quindi questo che si chiama riparto fa sì che ciascuna regione riceva dallo Stato una certa quantità di risorse. L'unica valutazione che lo Stato fa sulle regioni è attraverso questa valutazione, attraverso la cosiddetta griglia sui livelli essenziali di assistenza, che è una griglia molto generale, ma che comunque definisce quali sono le regioni adempienti, quindi quelle che hanno erogato i livelli essenziali di assistenza secondo le indicazioni statali e al tempo stesso quelle che vanno in deficit. E come dicevo poco fa queste valutazioni portano a identificare regioni che erogano buoni livelli e al tempo stesso hanno i conti in ordine e regioni che invece hanno dei cattivi livelli essenziali di assistenza e al tempo stesso sono anche in deficit. E tra l'altro queste regioni, prevalentemente al centro-sud, sono quelle dalle quali i cittadini migrano verso il nord con il fenomeno della mobilità sanitaria. Certo, quello che appunto abbiamo visto adesso. Quindi in poche parole quello che si vedrà naturalmente è uno scenario che già esiste, però su carta, no? Quindi vediamo la regione che lavora bene e quella che lavora male. Assolutamente. A quel punto lo Stato può intervenire e in quali termini potrà intervenire? È stato già discusso questo? Ma quello che non è mai avvenuto, tra l'altro se ci pensiamo bene il federalismo sanitario in Italia è un nonsenso, perché di fatto noi siamo uno Stato unico che decide di frammentarsi per erogare la sanità. La sanità in America è federale perché gli Stati sono differenti per loro stessa natura. Però faccio un esempio anche per far capire come siamo un po' lontani da questo punto di vista. Anche se in America, che è una vera sanità federale, ci sono un certo numero di Stati che pianifica e organizza in maniera indipendente la propria sanità, esiste un'unica agenzia nazionale, la cosiddetta Agency for Health Care Research and Quality, quindi l'agenzia che fa la ricerca e valuta la qualità dei servizi sanitari. È unica per tutto lo Stato. Allora, in assenza di chiare linee di indirizzo che vengono da agenzie nazionali, che dovrebbero essere l'Agenas, dovrebbe essere l'AIFA per i farmaci o probabilmente potenziata anche dal punto di vista dei contenuti da erogare, ciascuna regione rispetto agli standard e rispetto ai criteri di valutazione rischia di fare un po' per conto proprio. Quindi pensare che la controriforma del titolo V possa ridurre le diseguaglianze regionali la vedo molto dura. L'unica cosa che ha eliminato è la legislazione concorrente, ma gli effetti, come già accennavo poco fa, potranno essere viste nel corso dei prossimi mesi o addirittura anni. Dottor Cartabellotta, si poteva fare di più? Su che campo? Su questo campo qui, su campo sarà naturalmente sempre di questa controriforma. Abbiamo visto che comunque bisognerà rispettare degli standard, quindi ogni regione dovrà comunque stare sotto determinati criteri. Si poteva fare di più in questi termini per avere ancora più un controllo a livello centrale italiano? Sicuramente quello che si poteva fare era intanto definire in maniera univoca a livello nazionale quelli che sono i cosiddetti criteri di accreditamento per le strutture sanitarie. Cosa significa questo per il cittadino? Significa che a fine degli anni 90, quando ancora non era entrata in vigore la riforma del titolo V, lo Stato decise che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private dovevano definire degli standard, standard di tipo strutturale, di tipo tecnologico, di tipo organizzativo e ovviamente dovevano essere non solo autorizzate ma anche accreditate per erogare l'assistenza sanitaria. Siccome poi di mezzo si è messa la riforma del titolo V del 2001, ogni regione ha definito i propri criteri di accreditamento, per cui oggi un cittadino che viene operato nel Lazio rispetto a uno che viene operato in Emilia Romagna, entra in una sala operatoria i cui criteri di accreditamento sono diversi, in termini, faccio degli esempi, del ricambio dei volumi d'aria in termini delle procedure di sterilizzazione, quindi gli esiti diversi sui pazienti anche per esempio in termini di infezioni postchirurgiche dipenderanno anche da questi criteri di accreditamento che sono differenti. Allora la realtà è che da quando abbiamo cominciato a misurare gli esiti in sanità ci rendiamo conto che i sistemi sanitari regionali nascono già diversi in partenza e non possono che produrre degli esiti differenti perché se le procedure di accreditamento, se i processi assistenziali e se tutta una serie di altri aspetti sono differenti è chiaro che a livello di outcome, cioè di salute dei cittadini, noi avremo dei risultati che sono completamente diversi. Ma anche in questo momento, ed è quello che sottolineiamo noi nella nostra iniziativa Salviamo il nostro sistema sanitario nazionale, una maggiore capacità di indirizzo e di verifica da parte dello Stato. Ma bisogna vedere se la politica intende togliere potere alle politiche regionali oppure di fatto ognuno deciderà di fare quello che vuole come ha sempre fatto. L'ultima cosa che potrebbe essere fatta, se in questi anni alcune regioni, penso all'Emilia Romagna che da tanti anni è al primo posto nella valutazione dei livelli essenziali di assistenza, penso alla Toscana, penso anche alla Lombardia, comunque a tutte le regioni del centro nord, hanno sviluppato delle eccellenze politico-organizzative. Per quale motivo non fare quello che si chiama federalismo solidale? Cioè provare a fare affiancare le regioni che vanno peggio da quelle che invece hanno sviluppato maggiori competenze. Ne dico una per tutti. Il sistema di accreditamento della regione Emilia Romagna è indubbiamente quello che è al top in Italia, ma non solo perché per la ricchezza dei criteri di accreditamento, ma perché ha accreditato pubblico e privato, mentre in alcune regioni sono state accreditate soltanto le strutture private, dando quasi per scontato che la struttura pubblica va bene in ogni caso. Mentre non è così, perché i livelli di sicurezza, i livelli di efficacia di una serie di strutture devono essere verificati anche nel pubblico, soprattutto in un momento cui l'invecchiamento delle strutture sanitarie sta rendendo molto pericolosi alcuni luoghi, soprattutto di tipo ospedaliero. Certo, quindi un paradosso. In certe regioni è quasi meglio una struttura privata accreditata piuttosto che il pubblico, dove naturalmente sono, non dico strutture fattiscenti, ma che sicuramente hanno bisogno di una revisione, detta come va detta. Paradossalmente sì, perché il criterio di accreditamento dovrebbe alla stessa maniera riguardare sia la struttura pubblica che la struttura privata, perché se un paziente va a operarsi nella struttura pubblica o nella struttura privata, deve trovare gli stessi standard organizzativi, tecnologici e strutturali, perché altrimenti parte già svantaggiato. Assolutamente, i criteri devono essere standardizzati anche perché il paziente si trova di fronte alla stessa, deve trovarsi di fronte allo stesso tipo di realtà e deve avere lo stesso tipo di assistenza e possibilità di cura, come ritornando sempre naturalmente a quelli che sono naturalmente gli articoli disposti dalla Costituzione. Naturalmente rimaniamo in tema e parliamo anche di un altro aspetto molto importante, che sicuramente va a caratterizzare quello che può essere un deficit a livello regionale, quella della politica degli sprechi. Quanto incide questo rispetto naturalmente a quello che è una buona sanità? Noi nel nostro rapporto sul sistema sanitario nazionale siamo partiti da alcuni lavori internazionali che stivano in circa il 20% degli sprechi in sanità. Ribaltando questa percentuale di spreco sul nostro servizio sanitario nazionale stiamo discutendo di circa 20 miliardi di euro, ecco che per inciso paradossalmente sono quelli che servono al Presidente del Consiglio per attuare tutta una serie di specifiche riforme. Solo che il sistema in questo momento è talmente strutturato, ecco vedo che la regia ha prontamente mandato in onda, vedete che ci sono queste sei categorie di sprechi, parto un po' dall'alto che può essere utile anche per i telespettatori. Vedete che al primo posto ci sa quello che viene chiamato sovrautilizzo di interventi sanitari. Cos'è il sovrautilizzo? Sono tutti gli esami inutili che facciamo, sono tutti i farmaci che sprechiamo, sono tutte le visite specialistiche che non occorrono, a cui ci sottoponiamo. Ma questo è un fenomeno che dipende non solo dagli erogatori, dipende dal fatto che oggi la società è estremamente medicalizzata e paradossalmente siamo tutti malati perché le soglie delle malattie si abbassano dal punto di vista diagnostico, c'è la ricerca continua di uno status di salute che non è garantibile dalla medicina. Pensiamo anche a fenomeni come il fenomeno di Bella piuttosto che Stamina dove in assenza di qualunque evidenza di prove di efficacia dalla letteratura i pazienti vanno alla ricerca giustamente disperata di uno specifico trattamento. Poi vediamo che incidono molto anche le frodi e gli abusi e questo è quello che sta dentro il cosiddetto malaffare della sanità dove di fatto stiamo parlando di circa 5 miliardi di euro. Ci sono poi, e su questo il governo sembra volere lavorare molto, le tecnologie sanitarie acquistate a costi eccessivi, è il famoso esempio della siringa che può costare 200 volte in più da una regione all'altra, ma poi vedete che esiste anche uno spreco legato al sottoutilizzo ecco in particolare nelle malattie croniche i pazienti non riescono a seguire per lungo tempo le terapie che vengono prescritte per cui alla fine finiscono per avere delle recidive e vengono nuovamente ricoverate all'interno dell'ospedale. Poi ci sono delle complessità amministrative su cui non entro nei dettagli ecco è aspetto molto importante ancora oggi. Viviamo, e questo in tutte le regioni poi chiaramente in alcune misure maggiore, in altre misure minore quello che è un inadeguato coordinamento dell'assistenza. Il paziente passa dall'ospedale al territorio in maniera assolutamente continua senza una continuità di cura che viene garantita anche da strutture intermedie e questo determina un'enorme quantità di spreco di risorse. Allora quello che abbiamo sottolineato all'interno del nostro rapporto che cos'è? È che anche se le risorse dovessero aumentare quindi immaginiamo oggi 111, tra vent'anni 150-160 miliardi di euro a patto che ci siano le disponibilità delle risorse economiche in assenza di chiare politiche per identificare e ridurre gli sprechi queste risorse aggiuntive finirebbero per essere assorbite dagli sprechi stessi perché è uno status quo che bisogna modificare anche con quelle che abbiamo chiamato innovazioni di rottura cioè bisogna cambiare il corso di una serie di cose perché altrimenti di questo passo sarà molto difficile rientrare all'interno di canoni di spesa. Peraltro quello che è successo e i cittadini italiani l'hanno vissuto sulla loro pelle la politica non è in grado di fare una spending review selettiva decide di tagliare una certa quantità di risorse 2, 3, 4, 5 miliardi di euro di fatto dal 2012 al 2015 il Fondo Sanitario Nazionale ha perso circa 25 miliardi di euro e le regioni hanno fatto una grande fatica per riorganizzare i servizi alcune che hanno avviato già politiche di contenimento degli sprechi hanno avuto dei migliori risultati chi invece aveva già un sistema organizzativo assolutamente inadeguato chiaramente si è trovato in maggiore difficoltà e di conseguenza i cittadini Quindi insomma poi in definitiva se si avranno anche più soldi ma comunque non si attua una buona politica sugli sprechi fondamentalmente si sprecheranno appunto risorse inutilmente in determinati settori come quelli che abbiamo visto nei sei punti nella politica degli sprechi mentre altri rimarranno sempre comunque in deficit quindi in poche parole se non si risolve se non si ottimizza comunque questa politica le cose rimangono identiche e naturalmente a rimetterci al di là della struttura il cittadino prima di tutto Assolutamente sì ecco è quello che noi continuiamo a sostenere che in un sistema sanitario pubblico come quello italiano l'azionista del sistema sanitario è ciascun cittadino che con le proprie imposte versate allo Stato contribuisce al mantenimento ecco perché ci vuole anche un maggiore senso di responsabilità da parte dei cittadini oltre che dei professionisti sanitari nel evitare tutti gli interventi sanitari che sono inefficaci o inappropriati solo perché così fanno tutti perché oggi la sanità pubblica non può erogare tutto a tutti ma può erogare quello che funziona ovvero sia quello che è efficace e quello che è appropriato cioè quello che deve essere erogato al paziente giusto nel momento giusto e nel posto giusto di fatto non ci sono soluzioni alternative anche perché appunto il rischio è che poi ci sia il paziente che realmente ha bisogno che poi deve sottostare a liste d'attesa infinite di uno, due mesi, anche tre, quattro insomma tanto siamo tutti consapevoli di questo e poi insomma naturalmente poi il decorso della patologia potrebbe andare avanti mentre per altri pazienti che fanno semplici controlli insomma è un po' anche una questione di etica fondamentalmente di mentalità come è cambiato anche il rapporto tra paziente e medico cioè lo stesso tipo di rapporto è molto diverso rispetto a diversi anni fa qual è stata l'evoluzione e perché secondo lei? Ma noi abbiamo identificato fondamentalmente due evoluzioni una che è quella legata al rapporto paziente-medico preferisco mettere prima il paziente piuttosto che il medico e una volta era di tipo paternalistico il medico accoglieva il paziente e all'interno del suo studio di fatto era lui il detentore delle conoscenze e di fatto convinceva il paziente a intraprendere uno piuttosto che un altro percorso di cura senza particolari condivisioni cioè proponeva una sorta di scelta definitiva si faceva quello che dice il medico sostanzialmente è quello che identificava il rapporto paternalistico oggi questo rapporto paternalistico che alcune categorie professionali si insistono a far sopravvivere non può esistere più perché oggi qualunque cittadino grazie ai mezzi di comunicazione in particolare internet negli ultimi dieci anni ha reso il cittadino sostanzialmente una persona in grado di approfondire gli aspetti che riguardano la propria malattia quindi oggi il modello si sta evolvendo verso quello che si chiama processo decisionale condiviso cioè il medico deve esporre al paziente quali sono le differenti opzioni diagnostico-terapeutiche e di ciascuna di queste deve spiegare al paziente quali sono vantaggi e rischi e poi la decisione la prenderà il paziente insieme al medico perché questo permetterà a ciascun paziente di essere consapevole di quelli che sono i vantaggi ma anche i rischi di ciascun intervento sanitario e con questo credo che sia un messaggio importante da lanciare a tutti i pazienti non esiste nessun intervento sanitario sia esso test diagnostico sia esso terapia, farmaco, intervento chirurgico che è a rischio zero quindi la necessità di effettuarlo dipenderà da una adeguata valutazione di rischi e benefici ma questo non solo per un problema di costi ma fondamentalmente per un problema di efficacia sul paziente e dei potenziali rischi che corroni il cittadino d'accanto suo per completare un po' la risposta alla sua domanda si è involuto in questi anni in consumatore di servizi e prestazioni quindi di fatto spesso va dal medico di famiglia non tanto ad esprimere un bisogno di salute ma ad esprimere una richiesta di prestazione devo fare il doppler, devo fare gli esami perché lui sa già e chiede solo la prescrizione e questo chiaramente ha alterato moltissimo sia il rapporto medico-paziente sia l'impatto di tutte queste prescrizioni inutili sui costi del sistema sanitario nazionale Bisognerebbe quindi anche naturalmente ottimizzare quelle che sono le risorse del sistema sanitario nazionale ma anche un cambiamento di mentalità e un'etica per quanto riguarda noi pazienti bisognerebbe adottarla in questo senso si potrebbero fare anche delle campagne di divulgazione a livello nazionale come mai non vengono ancora intraprese come mai ancora questo tipo di messaggio non viene dato perlomeno viene dato solamente in certe occasioni forse troppo rare Ma quello che a mio avviso manca in Italia rispetto ad altri paesi che assomigliano a noi in quanto a PIL piuttosto che a sviluppo tecnologico, industriale e quant'altro è una strategia nazionale di informazione ai cittadini sull'efficacia, sulla sicurezza e sull'appropriatezza dei singoli interventi sanitari questo fa sì che si sono create una serie si chiamano tecnicamente di asimmetrie informative tra quello che la scienza produce è quello che il cittadino dovrebbe sapere Asimmetrie informative dove spesso finiscono per entrare a gamba tesa soggetti i cui interessi commerciali inevitabilmente distorcono l'efficacia aumentandola e minimizzano i rischi degli interventi sanitari in altre parole i risultati della ricerca ovvero sia le evidenze scientifiche non possono essere studiate solo dal medico con degli adeguati sistemi di approfondimento di tipo culturale ma gli stessi contenuti dovrebbero essere distribuiti ai pazienti in adeguato formato perché chiaramente il paziente ha bisogno di quello che si chiama linguaggio comune per poter comprendere le cose complesse della scienza è ovvio che in assenza di questo chiamiamola governance nazionale dell'informazione sanitaria dei cittadini di fatto anche sulla stampa laica si trovano diciamo delle informazioni più variabili per cui ciascuno in un'epoca consumistica cerca più quello che è conveniente secondo le proprie necessità la sanità è diventato un vero e proprio mercato della salute ma anche la stessa tecnologia è chiaro che ha una valenza positiva soprattutto all'occhio ma all'orecchio di tutti quanti però per certi aspetti volete per forza nuove tecnologie che poi magari a volte si sommano già ad altre analoghe o comunque sono controproducenti e possono comunque fomentare e aumentare quella che è una politica dello spreco andrebbero tenute sotto controllo forse Ecco, questo è uno dei capitoli che finalmente nel patto per la salute che è questo documento di accordo tra lo Stato e le regioni che definisce le politiche sanitarie per il triennio 2014-2016 è stato inserito bisognerà vedere quanto poi sarà applicato questa attività si chiama valutazione delle tecnologie sanitarie sembra una cosa banale ma il cittadino nel momento in cui un farmaco piuttosto che un test diagnostico piuttosto che una tecnologia di altra natura è disponibile nel sistema ritiene che tutte le valutazioni di efficacia e di sicurezza siano state fatte a monte e quindi il sistema le abbia introdotte nel mercato della salute perché questo può portare ai cittadini solo un beneficio e nessun rischio in realtà il problema è molto più complesso perché molte tecnologie sanitarie entrano nel mercato soprattutto quelle di tipo diagnostico i dispositivi per i farmaci questo è un po' meno evidente perché esiste un controllo maggiore a livello di attività regolatoria ma la maggior parte dei dispositivi entrano sul mercato solo tecnicamente si dice con la marchiatura CE che è un fatto puramente burocratico per cui quando le maglie dei sistemi regolatori sono così larghe noi sul mercato ci troviamo una innumerevole quantità di quelle che si chiamano false innovazioni che di fatto sono nuove ma non rappresentano un'innovazione perché il loro utilizzo non migliora affatto la salute dei cittadini però aumenta gli sprechi e spesso rischia anche di aumentare gli effetti collaterali per i pazienti Assolutamente corretta questa indicazione questa descrizione ma in definitiva dottor Cartabellotta diciamo quali sono se ci sono anche dei punti o dei criteri naturalmente per la salvaguardia del sistema sanitario nazionale a cui noi ci possiamo appellare affinché comunque ci sia opera di miglioramento sia per la salute dei cittadini ma anche per lo stesso professionista anche a volte che lavora all'interno di queste strutture Ma è chiaro che occupandoci di quella che viene chiamata oggi medicina basata sulle evidenze o assistenza sanitaria basata sulle evidenze il nostro mantra è quello che il cittadino dovrebbe avere dal sistema sanitario solo quello che è di provata efficacia ed è sicuro e tutto il resto dovrebbe essere adeguatamente sperimentato ma nel momento in cui siamo quello che sicuramente serve è una profonda revisione delle proprie responsabilità rispetto a quelli che sono le responsabilità della politica delle aziende sanitarie dei tutti i professionisti sanitari non solo dei medici e anche dei cittadini perché di fatto oggi una delle prime cose che il sistema deve capire se va andare avanti in questa direzione oppure essere riformato completamente e quindi diventare un sistema misto con assicurazioni private che mediano in qualche maniera il finanziamento del sistema stesso e se l'obiettivo del sistema sanitario nazionale è quello di preservare mantenere e recuperare la salute fisica e psichica dei cittadini bisogna passare da interventi efficaci e appropriati se invece l'obiettivo diventa quello di distribuire accedere in maniera indiscriminata in maniera assolutamente che non tiene conto dei principi dell'efficacia e dell'appropriatezza io direi oggi stesso che possiamo salutare il nostro servizio sanitario nazionale perché in un sistema di consumismo di questo tipo se le risorse pubbliche non ci sono più o l'introduzione peraltro disordinata e poco controllata delle assicurazioni private ci farebbe perdere quella che abbiamo definito la più grande conquista sociale degli ultimi 35 anni infatti è sempre bello ricordare come il nostro sistema sanitario nazionale può e anzi ed è un'eccellenza a livello comunque sia territoriale ma anche all'estero comunque viene visto sempre come un qualcosa di positivo lungi comunque ad esempio dal pensare non so a una politica come quella degli Stati Uniti d'America che naturalmente non vede di base il cittadino tutelato al 100% ma anzi insomma poi con tutte le complicazioni del caso che poi già sappiamo il sistema sanitario nazionale a livello italiano è qualche cosa di unico e di assolutamente intoccabile le dirò di più quando Obama ha lanciato la riforma che è stata chiamata proprio Obama Care negli Stati Uniti ha studiato molto il sistema italiano perché l'idea era quello di avvicinarsi pur senza sconvolgerlo a un sistema sanitario di tipo universalistico dove il cittadino riceve delle cure senza nel momento in cui accede a un pronto soccorso piuttosto che a un ambulatorio mettere mano alla carta di credito però è opportuno che questo bene che noi ci portiamo dietro dai 35 anni siano i cittadini per prime come dicevo poco fa che rappresentano di fatto gli azionisti a essere le prime persone che vogliono tutelarlo perché il consumismo sanitario a poco a poco sta sgretolando sta sgretolando proprio questa grande conquista sociale quindi è qualcosa che ci dobbiamo tenere stretti ma non sull'onda degli allori perché il sistema sanitario oggi scricchiola le risorse sono poche e abbiamo visto anche da questa chiacchierata che sicuramente quell'universalismo e quell'equità che viene dichiarato nella legge 83 del 78 ma anche quell'articolo 32 della Costituzione oggi non è rispettato forse il messaggio che bisognerebbe far passare naturalmente alle persone e ai cittadini è proprio che il sistema sanitario nazionale è un qualche cosa di nostro penso che ognuno in casa propria tenga volentieri ai propri arredi alle proprie caratteristiche a vivere in un luogo sicuro asciutto per la propria famiglia e per i propri cari il fatto che sia nostro forse questa è l'identità e il messaggio che bisognerebbe lanciare è un qualche cosa che comunque dà l'opportunità a tutti di curarsi naturalmente ma anche dà l'opportunità di preservare qualche cosa che è un'identità nazionale ed individuale per certi aspetti assolutamente sì e a me la cosa che dispiace è che questo che lei ha detto non viene adeguatamente enfatizzato dalla politica e dall'istituzione perché la sanità è diventato un mercato dove tutti possono attingere ciascuno con le proprie ruberie opportunismi conflitti di interesse è un patrimonio nostro o non a caso il nostro progetto si chiama salviamo il nostro sistema sanitario nazionale che appartiene a 60 milioni di cittadini che con la fiscalità generale contribuiscono a finanziarlo quindi è un bene di tutti io mi immagino ritornando anche ai discorsi che abbiamo fatto all'inizio di questa seconda parte che dove comunque ci sono delle regioni in deficit dove ci sono comunque delle regioni che non ottimizzano le risorse in maniera ottimale sarà molto difficile comunque adeguare questo tipo di politica il tempo diciamo siccome siamo in chiusura quanti anni presumibilmente ci potrebbero volere? Personalmente ritengo che le regioni che hanno fatto cattiva politica e cattiva sanità non passino e non transitano verso una buona politica non lo raggiungeranno mai questo tipo di obiettivo uno per ultimo e dei giorni scorsi il fatto che in Calabria è una delle regioni messe male nella sanità italiana è stato mandato come commissario generale della sanità un generale della guardia di finanza e questo dice tutto sulle problematiche di quella regione D'accordo siamo in chiusura il suo intervento è stato molto prezioso ringrazio il dottor Antonino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe per la salvaguardia del nostro sistema sanitario nazionale grazie di essere stato con noi grazie a voi e buona giornata buona giornata i nostri ascoltatori naturalmente vi rimando come sempre prossima settimana per l'appuntamento puntuale con forma et salus grazie a tutti grazie a tutti